Con l'arrivo del 2023 ritorna il calcio giocato e per la San Cataldese è tempo di scendere in campo. Domenica e Verde Amaranto faranno visita al Sant'Agata per la diciottesima giornata del Girone I di Serie D. La squadra del tecnico infantino riprende il percorso verso la salvezza, iniziando il nuovo anno contro un avversario in piena lotta play-off che milita nella parte nobile della classifica. La San Cataldese in settimana ha ripreso gli allenamenti per preparare nel migliore dei modi l'appuntamento di domenica prossima alle 14.30 in terra messinese. Nel 2023, come ha confermato il presidente alla Cagnina nel messaggio di fine anno, oltre al raggiungimento di una tranquilla salvezza si punterà a sviluppare il settore giovanile, guidato dalla responsabile Francesco Rabita e a migliorare lo stadio Valentino Mazzola. L'attenzione principale della tifoseria però è alla prima recita del 2023 contro il Sant'Agata per consolidare l'attuale dodicesima posizione in classifica e ottenere quanto prima una salvezza che sarebbe un grande risultato in una categoria tanto blasonata quanto difficile come la Serie D. Gli appuntamenti della diciottesima giornata del Girone I di Serie D in programma domenica 8 gennaio alle 14.30 Canicattila Mezzia Terme, Castrovilla Rilicata, Catania Ragusa, Città di Sant'Agata San Cataldese, Città Novesa Cireale, Locri Santa Maria Cilento, Paternore Alla Versa, Mariglianese Trapani, Vibonese San Luca. Grazie a tutti.